La parola d'ordine è pulizia. Da nord a sud, in ogni partito, è questo il vocabolo che più si rincorre. Anche Futuro e Libertà è d'accordo con il tema e lancia la campagna fuori i corrotti dalla politica e dalla pubblica amministrazione. Stamane è raccolta firme in piazza Trieste e Trento a Napoli per chiamare a raccolta il popolo partenopeo. Scendiamo di nuovo in campo perché ci rendiamo conto che c'è bisogno di porre un'argine anche ad una deriva antipolitica. Come ha detto il presidente napolitano, non bisogna fare tutta l'erba a un fascio. Per cui lanciamo queste due petizioni che ha voluto il presidente Fini per escludere i politici corrotti dalle liste ed anche per impedire, questa è la novità, ai funzionari pubblici corrotti di continuare a ricoprire questi incarichi. 90 giorni per raccogliere 1.200.000 firme per dare sostegno ad un'iniziativa del nostro presidente Gianfranco Fini, per far comprendere ai cittadini che la disaffezione deve essere accantonata perché il partito ha compreso che la politica deve essere fatta di giovani, di persone non colluse con i sistemi di oggi. Un sistema che impedirà la candidatura alle prossime elezioni politiche ma anche alle prossime elezioni amministrative di persone che sono state condannate per reati di corruzioni o similari. Liste pulite per gente nuova, gente innovativa per un partito che sicuramente sarà parato a dimostrare ai cittadini di essere un partito diverso dagli altri.